Come ti chiami? Aljena Bordignone Che cosa fai nella vita? Wedding Plane Che cosa ti è piaciuto di più di questo corso LGBT Ambassador? Allora, mi è piaciuto molto comunque avere una panoramica molto più ampia su quello che riguarda il mondo LGBT e ho imparato comunque molto anche il modo comunque di pensare dall'altra parte che spesso non è semplice neanche metterci dall'altra parte e mi ha fatto piacere conoscere comunque molti punti di vista anche a riguardo quest'ambito A chi lo consiglieresti e perché? Allora, lo consiglierei a tutti quelli che fanno parte del mondo del turismo e del wedding perché ci aiuta nonostante comunque chi ha già una mentalità aperta per accogliere questo tipo di coppie abbiamo bisogno di un qualcosa in più di capire come è fatto esattamente il loro mondo per poterli comprendere e rispettare fino in fondo Ok, ti ringrazio Grazie a voi